Come ho avuto più volte modo di sottolineare, la storia del veicolo, la storia dell'auto, parlare appunto degli aspetti della storia dell'auto, ti permette di comprendere meglio gli angoli del percorso evolutivo e di capire meglio come certe idee in realtà fossero già presenti prima e come quindi ogni singola idea che si propone risolve un problema, scusate la filosofia, però è vero, risolve un problema in base a come si concepisce l'auto adesso in base ai problemi che in questo momento dà l'auto. Sto parlando dell'auto elettrica e sto parlando per la precisione della prima auto elettrica messa in commercio al mondo, pensate che era il 1899, si chiamava Electric Coach, Electric Columbia Coach, fu proposta proprio dalla Columbia Automobile Company di Hartford nel 1899, presentava 4 batterie a 44 celle, 4 setti batterie, 44 celle, produceva un kilowatt e mezzo di potenza, aveva un'autonomia di 48 chilometri, è chiaro che in quella situazione servivano molte batterie ma non contava la velocità, contava far andare la macchina. Le auto che furono presenti in questo modo, diciamo che l'azienda addirittura si vantava di poterne centinaia in un periodo nel quale era già tanto riuscire a poterne una decina. Nel New York del tempo veniva utilizzata per trasportare personaggi estremamente importanti dalla stazione verso il centro degli uffici di Manhattan, erano già all'epoca un'auto di immagine, quindi la Electric Columbia Coach era un po' come la Tesla adesso. Pensate alle caratteristiche che ha la Tesla adesso, pensate alle caratteristiche che può avere il veicolo di cui vedete in foto un esemplare. Nel 2011 hanno venduto all'asta un veicolo elettrico Columbia ed è stato comprato per la bellezza di 550 mila dollari. Mi sembra che sia opportuno ricordare che stiamo parlando di un veicolo che ha più di cento anni, perché è stato commesso in commercio prima del 1900 e già andava energia elettrica e già questo ci fa pensare, veramente. Era in grado di percorrere anche 5 mila chilometri con le gomme che aveva e dopo bisognava cambiare le gomme. All'epoca erano veramente aspetti tecnologici devastanti che portevano già a far pensare che un'auto elettrica fosse superiore rispetto alle auto a idrocarburi. Quello che soppiantò l'auto elettrica erano le prestazioni. L'inquinamento non era certo un problema. Era tempo che non facevo una puntata sulle auto storiche e quindi diciamo che questa spero sia dirompente perché effettivamente è un pezzo interessante. Ciao a tutti!